Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come L'Isola dei Famosi ha subito un cambiamento improvviso spiazzando tutti quanti compreso la conduttrice Ecco cosa è accaduto.Programma sospeso.La sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi sta appassionando milioni di italiani a tal punto che la media setà ha deciso di prolungare il percorso da naufraghi facendo slettare la finale dal 27 maggio Al 27 giugno. L'Isola dei Famosi e la decisione da parte della rete.La decisione è stata presa in merito al successo che l'attuale edizione sta ricevendo da parte del pubblico giovane che durante la diretta del programma manda in tilt i social, in particolare Twitter per commentare le vicende dei concorrenti in gara Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 18 aprile, abbiamo assistito all'eliminazione di Jeremias Rodriguez che successivamente quando gli è stata data la possibilità di gareggiare su Playa Sgamada ha deciso di abbandonare il reality nonostante Ilari Blasi e gli opinionisti hanno cercato di convincerlo Dopo questo episodio si sono svolte le prove leader che hanno visto Licia Nunez trionfare per la squadra dei Tiburon e Nicolas Vaporidis per quanto riguarda la squadra dei Cucaraccia In nomination per volontà del gruppo sono andati Ilona Staller e Marco Senisi affiancati per volontà dei leader dall'unica coppia in gara formata da Estefania Bernale, Roger Balbuino e da Nick Luciani dei Cugini di Campania I quattro avrebbero dovuto sapere l'esito del televoto soltanto lunedì 25 aprile e non il giovedì come spesso accade dato il doppio appuntamento settimanale Questo perché da giovedì 21 andrà in onda su Telecinco, Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi e quindi la Polopo e altri spazi verranno concessi agli spagnoli Il cambio di palinsesto.Per questo motivo, le successive settimane sarebbero state formate sempre da un doppio appuntamento con la puntata del giovedì registrata e mandata in onda senza televoto ma con alcune dinamiche e prove ricompensa e leader Ma la Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione spostando il programma di Enrico Papi, Big Show a giovedì 21 e mandando in onda l'Isola dei Famosi venerdì 22 facendo, con una puntata che non era stata prevista, facendo scontrare il reality con il nuovo talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti, The Band L'Isola dei Famosi, spostamento puntata al venerdì.Al momento non si sa se l'appuntamento del venerdì rimane confermato anche per le prossime settimane ma in questo modo, non solo l'Isola dei Famosi raddoppierebbe l'appuntamento settimanale Avendo quattro giorni di differenza e lasciando al pubblico più tempo per decidere le sorti dei naufraghi ma potrebbe benissimo essere trasmesso in diretta senza dover registrare la puntata e quindi avere una migliore interazione col suo pubblico Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao